Intenzionato di non vedere più il solito stronzo per non più di mezzo secondo, ho deciso di aggiustare il pulsante dello sciacquone, ovviamente spendendo il meno possibile col fai-da-te, sperando che la riparazione funzioni e duri. Il pulsante non è nient'altro che uno stantuffo atto a comprimere dell'aria che fa scattare la valvola del scarico. Col tempo lo stantuffo tende a consumarsi, quindi perde capacità di compressione. Nei casi più fortunati per ripristinare le condizioni ottimali basta usare del grasso, ma nel mio caso l'usura è abbastanza elevata e quindi devo escogitare un metodo alternativo, che ho pensato essere di usare della colla a caldo per creare uno strato sottilissimo di colla intorno allo stantuffo, in modo tale da aumentare la circonferenza di qualche micron. Rimontato il tutto aggiungendo il solito grasso sia allo stantuffo che in tutte le altre parti meccaniche, compresa la valvola di scarico, il solito stronzo tornerà ad avere vita breve. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.